Allora, buongiorno Luigi, noi oggi continueremo a parlare della Francia e dei settori, l'altra volta abbiamo parlato dell'agricoltura, dell'industria e del settore terziario, abbiamo approfondito l'agricoltura elencando la tipologia di frutta e di verdura che si coltiva in Francia, gli animali che si allevano, oggi parliamo invece di un settore che si è sviluppato molto in Francia negli ultimi anni, ovvero il turismo. Anche questa volta la nostra lezione sarà così articolata, ti parlerò in francese dell'argomento, dopodiché farò una traduzione in italiano e ti chiederei il solito riassunto di 50 parole come l'hai articolato la volta della scorsa. Io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Allora, oggi, on va parler del turismo in Francia. Allora, qu'est-ce qu'on può dire a propos del turismo? On parla di 2018 che è stata l'anno in cui il turismo in Francia si è molto sviluppato e la Francia è stato il più visitato il mondo. Allora, qu'est-ce qu'on può dire a propos del turismo? Quelle sono le place le più visitato in Francia? Allora, on può dire che abbiamo circa 100 milioni di turisti qui visitano la Francia ogni anno e questo numero è prevato anche per questa l'anno. E qu'est-ce qu'on può dire ancora a proposo dei numeri? On può dire che le anni passate, per esempio in 2017, in Francia, il y a 80 milioni di turisti che hanno visitato la Francia e altri turisti hanno visitato gli altri paesi del mondo. Ma come si può vedere, la Francia è un dei paesi più frequentati nel mondo tutto. Allora, a proposo del turismo, come si può dire che le famiglie hanno visitato Disneyland e Disneyland è la maison di Mickey Mouse, di tutti i personaggi di Disney. E poi le turisti hanno visitato anche il cattedrale di Notre Dame. E allora, qu'est-ce qu'on può dire ancora? On spera che, malgrè questo periodo di crisi che la Francia è attraverso con l'Europa e con l'Italia, on spera che il turismo può ricominciare il più tempo possibile in Francia. Allora, cosa dobbiamo dire del turismo francese? Allora, parliamo ecco del turismo e degli sviluppi che ha avuto negli ultimi anni. Allora, nel 2018 la Francia è stato uno dei paesi più visitati al mondo. Abbiamo circa 89 milioni di visitatori nel 2018, mentre invece nel 2017 i visitatori erano circa 86 mila e poco più. E chiaramente per quest'anno sono previsti 100 milioni di visitatori, però si spera che la crisi che sta attraversando adesso la Francia, come altri paesi dell'Europa per quanto riguarda il turismo, si spera che possa risolversi nel breve tempo possibile e la Francia possa ricominciare ad essere uno dei paesi più frequentati d'Europa in tema di turismo. Allora, vediamo ecco la Francia in relazione agli altri paesi del mondo. Allora, in Francia abbiamo circa nel 2017 81 mila turisti, poi abbiamo 75 milioni di turisti negli Stati Uniti, 60 milioni di turisti in Cina, 58 milioni di turisti in Italia e dopo poi abbiamo il Messico con 39 milioni di turisti e poi abbiamo il Regno Unito con 37 milioni di turisti. Allora, quali sono i punti forti della Francia, ovvero quali sono le attrazioni che i turisti stranieri amano visitare? Allora, innanzitutto Disneyland che è proprio il parco dove vive la famiglia di Topolino che è molto ambito perché è meta di famiglie che hanno i bambini, dopodiché abbiamo anche altri posti famosi come il Museo de Louvre, il Castello di Versailles, la Tour Eiffel, il Le Sontre Pompiedou e poi chiaramente abbiamo anche la Cattedale di Notre Dame. Quindi che cosa si spera? Si spera che questo turismo, nonostante ecco la crisi che stanno attraversando, si spera che possa riprendersi. Quindi ti chiederei di fare un riassunto di quanto detto in 50 parole e mi raccomando di rispettare sempre la sintassi che ti ho spiegato durante le lezioni, quindi soggetto, verbo, complementi, prestando il massimo accordo, attenzione all'accordo tra soggetto, verbo, oppure l'accordo tra nome maschile, femminile e plurale, seguendo tutte le regole che abbiamo studiato nel corso di questi anni. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Impariamo alla prossima. Grazie.